Tu Pippo, quale vuoi aprire di Unicorn Cupcakes Slime? Questo azzurro Bello quello, è bello A parte quelli Io questo Se permetti sono tutti i miei Ma questo è tutto No, abbiamo fatto un patto prima, metta a testa Non iniziare Io scelgo i miei trattori e ti lascio Ma questo è azzurro I tre da femmina ti ho lasciato Ah certo, quelli rosa e vero sono miei Vai apriamo Portatina Ma come lo vedete? E già è del Cupcake Che bello E' tutto morbidoso poi Aspetta che adesso apro il mio Dai Tina, apri il tubo Ma hai visto? E' azzurrissimo Guarda, è il rosetto che dà la forma di Cupcake E' certo Wow Adesso ci voglio mettere le palline Tutte viola, azzurre Oh mamma Oh 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 Cascchiamo un po' Adesso provo di preparare proprio un Cupcake Che bello Che bello, tutto colorato Ok, sappiamo cosa fare oggi pomeriggio Pippo Sì, credo proprio di sì Tina mi sta proprio vedendo voglia di Cupcake Eh, è vero eh Ma che a me è venuta fame? Fa sentire? Eh, ha anche un buon odore Mh, è anche il mio Eh, dico, era di merenda ci sta Poi c'era il Cupcake Però è che bello Adesso sto aggiungendo le palline Tina Anche perché Cupcake Merenda Eh Carnevale E' vero Mamma ha preso tante merendine per carnevale E' vero E le decorazioni Sì Tina Eh Mi è venuta in mente una cosa Sai che mamma e papà sono fuori? Eh E se li facciamo una festa sorpresa Di carnevale? Sì, con tutti i dolci Le decorazioni Sì, con i coriandoli Sì Dai, grande idea, Pippo E ho già in mente Come farli sorprendere quando arriveranno Sì Sì Dai, allora andiamo Andiamo Ok, questi qua Questi li mettiamo qui E poi li mettiamo un po' sparsi Così se lo era con il tavolo Hai visto che tu l'hai preso, Pippo? Sì Eh, con tutte le moglie Ok, allora Mettiamoli un po' sparsi Vai, mettili anche tu Così Ora li metto Che vuol dire? Eh 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 Ecco, io lo sapevo Adesso iniziamo Vai, finisci tu che prendo I dolcetti Oh, meno male che mamma Cos'è un po' spazio oggi Guarda che bello Queste sono le mascherine Cosa? Le bellezioni Ma qua, poi dopo le apriamo con loro Tina, guarda qua quanti dolci Sì Guarda che belle queste mascherine Tra l'altro questi ricordano i pallini Dei cupcakes slime Guarda gli slime Che belli Vedere questi slant Che hanno così tanto colore Vero Sono troppo carini Poi apri anche questi Anzi, Pippo Apri tu che mi prendo altri dolci Qui ci sono le I coriandoli Le stelle pilanti Che bello Tina, dove le metto queste bugie Ripiene Allora, direi Quella è la mela Le mettiamo qua In mezzo alle mascherine E poi le altre vai Mettile tu dove vuoi Mamma mia Guarda che bella tavola Qui non sta venendo Sì Però voglio fare una cosa Invece di questo bianco qui Ci mettere questo Secondo me sta meglio Proviamo un po' È vero E poi qui abbiamo le lingue di Menelik I coriandoli Sto iniziando a fare il giocasino Spaventiamo mamma e papà Pippo Cioè Combini sempre casini Potevi dirmelo che volevi giocare Con i cupcakes slime Sì Invece di versare tutto Io adesso raccolgo E mi godo i miei cupcakes slime Mentre aspettiamo mamma e papà Tanto ci mancano solo Da mettere le bugie Poi possiamo giocare Mentre le aspettiamo Vai Tina L'ultimo palloncino Eh, non potevano mancare Guardate i bambini È la viola Per me Ok Li mettiamo anche questi Anche questi qua Tina Mi è venuta un'idea Eh, dimmi Per poter giocare Ho l'idea Li mettiamo dentro Scusa Ai cupcakes Ah, per tenerli Cupcakes to slime Li mettiamo Guarda Ma ci stanno? Sì Tra un po' Ma è vero Sì, dai In qualche modo li facciamo stare Sì Bellissimo Bravo Sì, ma quando arrivano? Non lo so Mi stanno aspettando un bel po' Non lo so Stiamo qua noi Vabbè Sì, però Pippo Mi raccomando Dobbiamo fare attenzione Al minimo rumore Appena arrivano Dovevano subito spegnere la luce Sono sicuro che la sorpresa rifierà Tina Sì Che belli Tina Non vedo mai la crema Per mangiare la mascherina Anche io Anche questi qua la crema Sì Le bugie Avevo tutto sto pedito davanti E non poteva mangiarlo Vabbè Però dai Sono arrivati Mino sono arrivati Spingale la luce Guarda la luce Vai Vai Gai. Oggi di carnevale. Ma che è questa roba? Guarda, perché perché abbiamo ancora capito di Cupcakes Slime? È questa festa di carnevale. Com'è questa festa? E perché è la Unicola Cupcakes Slime? Mi sono piaciuti, bello. Mentre ho aspettato per mangiare quindi. Io comunque sto ingoiando a coiandoli. Sì, festeggiamo. Ma che sta a fare? Allora possiamo favorire? Certo, mamma siediti. Ah, grazie. Mamma mia. Che accoglienza, Polla. Noi favoriamo. Eh sì, abbiamo aperto anche le mascherine. Usiamoci una frittella su una testa. Allora vi hanno ispirato molto bene. Guarda come sono tutte colorate. Bellissimo. Grazie, benissimo. Ti ho la sorpresa. Bellissima. Bella. Buon carnevalo a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.